Se tu vivi ogni giorno come il giorno più importante della tua vita e vivi ogni occasione come questa, che è l'occasione che ti può cambiare la vita, qualcosa ti succede. Dai tranquillo che qualcosa ti succede di buono. Io sono fermamente convinto che fortunati si diventa, perché la fortuna non è altro che l'incontro fra il talento e l'occasione. Meglio avere un talento così così, normale come avevo io, come ho tuttora, ma creare una quantità enorme di occasioni e a quel punto qualcosa succede. Se tu sei un super figo, super talentuoso, bravissimo a scuola e poi stai davanti alla televisione, ai videogiochi, non ti muovi, non ti dai davare, non ti sbatti e non ti succede una mazza.